Oggi è uscito questo articolo che sta preoccupando molti investitori in Bitcoin. Ebbene, secondo me, si sbagliano per almeno due buoni motivi. Innanzitutto vediamo cosa il governatore della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha detto riguardo Bitcoin. Se scorriamo nell'articolo, ovviamente vi metto il link in descrizione, ha detto che Bitcoin è un asset altamente speculativo, che ha portato ad alcuni business divertenti, ma anche ad attività criminale come il riciclaggio di denaro. E poi chiede una maggior regolamentazione delle valute virtuali. La domanda che bisognerebbe farsi è, ma perché questo dovrebbe preoccupare gli investitori di Bitcoin? Ebbene, a mio modo di vedere, invece, ci sarebbero addirittura due ragioni solidi, forti, che potrebbero far pensare il contrario, ovvero che se la BCE facesse quello che dice la Lagarde, Bitcoin potrebbe addirittura giovarsene. La prima motivazione riguarda proprio un'eventuale regolamentazione. Siete sicuri che una maggiore regolamentazione di Bitcoin potrebbe danneggiarlo e non, invece, addirittura aiutarlo? Prendiamo ad esempio l'oro. La regolamentazione dell'utilizzo dell'oro, l'oro è molto regolamentato, lo ha aiutato o lo ha danneggiato? Ve lo dico io, lo ha aiutato, anche perché l'oro, oramai, da diverso tempo, non è più utilizzato come moneta di scambio perché è molto scomodo, è utilizzato soprattutto per i risparmi. Ebbene, una maggior regolamentazione ha aiutato sempre più persone ad utilizzare oro o i prodotti derivati, i prodotti finanziari derivati dell'oro, come strumento di risparmio o investimento. Ma vi dirò di più, ci sono moltissimi potenziali investitori in Bitcoin che non investono proprio perché è un asset troppo poco regolamentato. A mio modo di vedere, un incremento della regolamentazione di Bitcoin attirerebbe nuovi investitori, quindi non solo quello che ha detto la Lagarde a mio parere non è dannoso per Bitcoin, ma addirittura potrebbe portare dei vantaggi. Questo però, attenzione, è valido per Bitcoin, non per le altre criptovalute. Ci sono molte altre criptovalute che potrebbero invece essere pesantemente danneggiate da una maggior regolamentazione, a partire ad esempio da XRP, perché se gli Stati Uniti d'America dovessero dichiararlo una security, cioè un titolo finanziario soggetto alle leggi sui titoli, ad esempio tutti gli exchange di criptovalute o comunque tutti i principali dovrebbero delistarlo, cioè toglierlo, non renderlo disponibile ai clienti americani e poi probabilmente in seguito anche a tutti gli altri. Quindi una maggior regolamentazione, a mio parere, non solo non danneggerebbe Bitcoin, ma lo aiuterebbe, ma potrebbe danneggiare alcune altre criptovalute. Ma il principale motivo per cui, secondo me, chi si preoccupa leggendo quell'articolo si sbaglia è un altro, ovvero lo scorretto riferimento di Christine Lagarde all'utilizzo di Bitcoin per finanziare attività criminali o come moneta dei criminali. Ve lo voglio dire chiaramente, al giorno d'oggi il maggior utilizzo di Bitcoin non è per finanziare attività criminali, anzi, le attività lecite che vengono gestite con Bitcoin o grazie a Bitcoin hanno volumi di transato enormemente superiori. Questo perché c'è un fortissimo equivoco che deriva in effetti da molto lontano, cioè da quando Bitcoin è nato. Ci sono infatti ancora troppe persone che pensano che Bitcoin sia o debba essere una moneta transazionale, cioè un mezzo di pagamento. Bitcoin invece non è e probabilmente non sarà mai un buon mezzo di pagamento, può essere utilizzato per i pagamenti, ma non è un buon mezzo di pagamento. Le valute fiat tradizionali come l'euro e il dollaro sono molto migliori di Bitcoin come monete per i pagamenti e lo rimarranno. Bitcoin invece è un'altra cosa che serve ad un'altra cosa. è molto più simile ad una versione digitale dell'oro che non alle monete fiat. Mi spiego meglio. A cosa serve detenere dell'oro? Non certo a usarlo per fare dei pagamenti. Al giorno d'oggi credo che non ci sia nessuno che paghi in oro. Qualche cosa di simile, di molto simile, vale per Bitcoin. Bitcoin serve per detenerlo, non per usarlo come moneta, non per spenderlo, solo che a differenza dell'oro, Bitcoin è molto più facile da spendere. Bitcoin, se volete, lo potete spendere immediatamente e convertire, ad esempio, anche in valuta fiat immediatamente. Con l'oro è più difficile, soprattutto se avete l'oro fisico. Il compito di Bitcoin è preservare il valore dei risparmi dalla perdita di valore dovuta all'inflazione o alla svalutazione. Cioè, ve lo dico in altri termini, Bitcoin non è una moneta transazionale, non è un buon mezzo di pagamento, può essere utilizzato come pagamento, ma non è quello il suo vero ruolo, è la moneta per il risparmio. L'alternativa all'oro fisico per il risparmio, perché Bitcoin da maneggiare è molto più semplice del loro fisico. Ebbene, il volume di Bitcoin che vengono attualmente utilizzati con questo scopo, cioè come moneta di risparmio, è enormemente superiore a quelli che vengono utilizzati, ad esempio, come moneta per finanziare le attività illecite. Non c'è proprio paragone. Chi concentra l'attenzione di Bitcoin, riguardo a Bitcoin, proprio sul suo utilizzo, sul dark web, sul mercato nero, o per finanziare le attività illecite, non ha capito Bitcoin. È molto distante dal capire Bitcoin. Io, sinceramente, sconsiglio di dar troppa retta a questo articolo, che in effetti non ha avuto praticamente nessun impatto sul prezzo di Bitcoin, e invece consiglio caldamente di dare un'occhiata a quest'altro articolo che abbiamo pubblicato oggi su Cryptonomist e che metto in descrizione, che è molto, molto più importante per capire Bitcoin. Purtroppo l'articolo di Money.it con l'allagar che punta al dito contro Bitcoin lo leggeranno un sacco di persone. Quest'altro articolo, che è molto più importante, lo leggeranno pochissime persone, anche se io l'ho caldamente consigliato. Che cosa ho scritto in quell'articolo? Ho scritto che la domanda di Bitcoin da parte di grandi investitori, che lo vogliono usare per l'appunto come forma di risparmio, è in aumento e potrebbe aumentare ancora, mentre invece l'offerta di Bitcoin sui mercati finanziari è in calo. Ricordatevi che se aumenta la domanda e diminuisce l'offerta, aumenta inevitabilmente il prezzo. Guardate questo grafico che ho linkato proprio all'interno dell'articolo. È un grafico pubblicato da Melis su Twitter. Lo ingrandisco che è meglio. Questo grafico mostra come è variato nel corso degli anni, come è variata la differenza che c'è tra i Bitcoin cosiddetti liquidi e quelli illiquidi. I Bitcoin liquidi sono quelli che vengono scambiati molto frequentemente, ad esempio sugli exchange. Addirittura qua in questo grafico i Bitcoin molto liquidi, cioè quelli che sono sugli exchange, che vengono scambiati quasi quotidianamente, sono in rosso. Poi ci sono in arancione i Bitcoin liquidi, cioè quelli che sono scambiati ma più lentamente. E poi in azzurro ci sono i Bitcoin illiquidi, quelli che non vengono scambiati quasi mai, cioè quelli che vengono detenuti sui portafogli, sui wallet, come investimento a lungo termine e poi forse movimentati in futuro, addirittura in un futuro molto lontano. Guardate, la differenza è nettissima, schiacciante. La stragrande maggioranza dei Bitcoin sono conservati sui wallet come investimento sul lungo periodo, cioè come moneta per il risparmio che dovrebbe proteggere dall'inflazione. Ma la cosa interessante, più interessante, è che a partire dal 2020, da inizio 2020, il totale dei Bitcoin illiquidi è diminuito, vedete, chiaramente diminuisce, mentre quello dei Bitcoin illiquidi è aumentato clamorosamente. Pensate che negli ultimi 12 mesi circa il totale dei Bitcoin illiquidi è aumentato più del 10%, passando da circa 13 milioni e mezzo di Bitcoin illiquidi a 14 milioni e mezzo su 18,5 milioni circa di Bitcoin totali esistenti al mondo. Altro che moneta per i criminali, la maggior parte dei Bitcoin vengono utilizzati per il risparmio. Bitcoin è la moneta del risparmio, non dei criminali. Pensate che solo in Italia sui conti correnti bancari ci sono fermi a far niente 1.400 miliardi di euro che sono più del doppio del valore di tutti i Bitcoin esistenti al mondo. Quindi immaginatevi se si diffondesse in giro per il mondo l'abitudine a non detenere più questa enorme quantità di denaro fiat fermo sui conti correnti per semplicemente risparmio, ma se una parte venisse convertita in Bitcoin che, a differenza delle monete fiat, ha natura deflattiva e non inflattiva. Oltretutto, se ciò avvenisse, una maggiore regolamentazione farebbe bene a Bitcoin. Cioè, se è necessario che Bitcoin sia regolamentato come le monete tradizionali, quelle che usiamo sempre, per essere utilizzato al posto di queste per i risparmi, potete ben capire che Bitcoin potrebbe avere un futuro luminosissimo, se non addirittura stellare. Poi, per carità, ricordatevi sempre che tutto questo ragionamento parte dal presupposto che la domanda di Bitcoin possa aumentare. Se poi, invece, di colpo, la gente dovesse smettere di comprare Bitcoin, invece, il suo valore potrebbe scendere anche di molto. Però, alla luce di quello che vi ho appena raccontato, è difficile immaginarsi dei motivi per cui gli investitori e soprattutto i risparmiatori dovrebbero essere tentati nel corso del tempo a non comprare più Bitcoin o addirittura a venderlo. Con l'oro non è successo, per carità, l'oro fisico ha un valore intrinseco che è innegabile e non glielo si può togliere, per carità, è comunque un valore di mercato, però, insomma, c'è mercato per l'oro fisico. Per Bitcoin questa cosa non c'è, quindi Bitcoin non è veramente un oro digitale, è simile all'oro digitale, però tenete presente che anche per quanto riguarda l'oro ad esempio, la maggior parte dei volumi di scambio non sono in oro fisico, ma sono in prodotti finanziari e derivati, digitali. Non c'è molta differenza da questo punto di vista. Quindi, in altre parole, più Bitcoin si afferma come moneta per il risparmio in alternativa alle monete Fiat che non sono per niente buone per il risparmio, e più la sua domanda dovrebbe aumentare. L'offerta di Bitcoin sul mercato non solo è inelastica al mercato, ma addirittura, come abbiamo visto, sta diminuendo perché la gente compra Bitcoin per tenerli fermi, per metterli in portafoglio e tenerli fermi e quindi, a questo punto, è più che lecito aspettarsi un aumento di prezzo in futuro. Non vi so dire quanto. Ora, spero di essere stato abbastanza chiaro perché comunque questi sono concetti abbastanza complessi. Ricordatevi comunque che se avete ancora dubbi o domande potete sempre scrivermi via e-mail perché via e-mail io rispondo sempre a tutti, solo non chiedetemi previsioni sui prezzi perché io non sono assolutamente in grado di farne. Un saluto, ciao!